Il Cervinara al Canada Cioffi compie un'altra impresa. La scuola di Renato Cioffi firma la corsa della capolista sarnese di Farina. In gol De Lillo al suo quarto centro, nelle ultime tre partite il giovane Pramprodige Giuliano che torna a temerare il cartellino dopo oltre due mesi di astinenza. Per la sarnese a bersaglio due volte Yeboah Johnson, ma al 92esimo è D'Andrea Leroti Giornata che salva i caudini parando un calcio di rigore a Vitolo. Il Solofra accade in casa del Santa Maria La Carità. La scuola di Criscuolo viene beffata da un gol di Cardone. Domani in campo la Virtus Avellino-Santo Stefano, Adrian Zulli contro il Calpazio. Intanto Pasqualino Giuliano è il nuovo trainer del Nola, udrà i bianconieri nel girone A di eccellenza e una ex conoscenza dei lupi, De Milo Pozzabon. In promozione sconfitta casalinga per il Lions Grotta di Monaco contro il San Vitaliano. A decidere la contesa romano ci pensano Gieri, mentre la Virtus Goti si allontana dalla zona retrocessione. battendo per 5-0 il Carotanuto. In gol a Deo, Maietta, Della Valle, Massaro e Piccirillo.